Io e te, eravamo in guerra, prima ancora di esistere. Sapevo che sarebbe successo. Credevo di conoscere il nostro nemico. Ma non so se potremo vincere questa guerra. Le macchine ci sono numericamente superiori. Via, via, via! E abbiamo tutti perduto talmente tanto. Ma questo non è il futuro contro cui mia madre mi aveva messo in guardia. Chi sei? John Connor! Qualcosa è cambiato. Il demonio si è dato da fare. Se ci hai salvati in un altro futuro, puoi salvarci anche in questo. Hai provato a uccidere mia madre. Hai ucciso mio padre. Se continuiamo così, moriremo! Moriremo tutti! Tu non riuscirai a uccidermi. John! Questa guerra termina... Stanotte. Paniondi. Ci hai salvati, che è Musica! Mi ha pensato! Per me! Ch Collide! Per me! Per me!